METTERSI SUBITO IN FILA Nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo. A che ora dovrai essere alla segheria? Alle quattro esatte. È dall'altra parte del paese, vero? E allora ti preoccupa? Puoi farcela. Non hai un posto dove dormire alla segheria? Quale segheria, scusa? Da dove vieni? Io sono un prete. Vado a chiamare qualcuno. Il paroco sarà lieto di incontrarla. Golovoyce. Padre Tomas. Sto pensando a chi potrebbe sostituirmi. Ma cosa? Messe tutto il resto? Non solo quello. Cuba è... Così ha voluto Dio. Ha voluto uccidere sette persone. Ho sentito che sta chiedendo in giro notizie su quell'uomo. Posso comprendere la sua curiosità, ma le indagini sono chiuse. Ho comunque il diritto di parlare con i fedeli. Nessun seminario ti accetterà con una condanna. La signora Lydia mi ha raccontato alcune cose su di lei, padre. Ah, sì? Si può sapere perché mandi tutto a puntare! Sapete in cosa siamo bravi? A dimenticare. Puntando il dito sugli altri. Perdonare non significa dimenticare. Perdonare significa amare. Amare qualcuno nonostante la sua colpa. Non importa quale sia. Perdonare nonostante la sua colpa.